Quartiere Donatello e Gramsci di Cuneo, questo fine settimana in festa con Dona Cup 2017, che cosa succederà? Allora, quello che vogliamo fare è appunto creare una festa di quartiere che è legata al centro della casa del quartiere, che sono proprio i campi sportivi e quindi il campo da calcetto, il campo da basket e i campi da bocce. Già l'altro anno avevamo fatto un torneo di calcio a 5 per i più piccoli e era stato un gran successo con ben 16 squadre e quest'anno abbiamo voluto riproporlo, infatti ci sarà in nuovo il torneo di calcio a 5 insieme anche a un torneo di basket 3 contro 3 nel campo rigenerato della casa del quartiere e un torneo di petanche con alla fine del sabato 17 la grande cena festa del quartiere Gramsci insieme al quartiere Donatello con anche un momento di danza e di festa. Speriamo sia un bel momento aggregativo per tutti. Ecco, campo rigenerato non l'avete fatto da soli ma vi hanno aiutato in questa impresa? È un progetto di alternanza scuola lavoro insieme agli alunni del liceo artistico di Cuneo, insieme abbiamo pensato a come rigenerare questo campo, a come che era ormai un pezzo di asfalto senza più neanche i colori del campo, c'erano solo i canestri, allora abbiamo ridipinto tutte le strisce creando due campi da 3 contro 3 regolamentari e insieme ai ragazzi dell'artistico abbiamo fatto il logo della casa del quartiere Donatello e insieme c'è il progetto di fare ancora dei graffiti pensati e appunto disegnati dai ragazzi dell'artistico. Ecco, tutti i progetti che fanno pensare di vivere il quartiere non solo come una casa entro-esco ma proprio viverlo. Sì, no, questa è proprio la nostra missione come casa del quartiere, la nostra missione è quella di cercare di animare questo quartiere, di farlo vivere, soprattutto i locali di casa del quartiere, locali storici del comitato di quartiere che poi con l'andare del tempo sono entrati un po' in disuso, cercare di farli di nuovo vivere e farli diventare di nuovo il bene pubblico sia di nuovo a disposizione di tutti e che sia utilizzato da tutti e che tutti possano viverlo pienamente.